9 al via rinuncia al lancio numero 8 Piragna il galoppo di Prometeo B dall'esterno, veloci Pink Moon, Parirum e Phantom Gar con Parirum che passa a condurre ma a largo si presenta Phantom Gar Parirum e Phantom Gar alle prese con Parirum che replica al rivale che cerca di scavarsi la posizione 13 e 3 Parirum che oggi prova a correre al comando, Vincenzo D'Alessandro Junior si accuda secondo Phantom Gar terza posizione per Pink Moon 400 in 29 e mezzo si va così con dalla quinta posizione alla corda la mossa di Pubblico d'Italia che prova a risalire un po' la corrente ma c'è la terza ruta di Piragna Intanto la leader transita i 600 in 45 Plachi LB è in ultima pariglia esterna si prosegue così sulla seconda curva con Parirum a controllare Piragna Pubblico d'Italia che fa un po' fatica a largo un minuto e uno con Piragna che va via a lungo su Parirum i due seguiti da Phantom Gar Intanto ha sbagliato Peter Fornis che era in terza pariglia Piragna al salti di Parirum che replica bene al chilometro in 15 e 4 con Parirum Piragna poi ancora Pubblico d'Italia Plachi LB in terza pariglia Phantom Gar di dentro Pink Moon gli altri curva finale Parirum Piragna tre quarti uno trenta e mezzo e Parirum mantiene sempre in rispetto Piragna dal gruppo pubblico d'Italia la mossa ora decisa di Plachi LB a largo di tutti Parirum che accelera prende vantaggio al rivale arriva Plachi LB Parirum con una da gestire Plachi che si ingamba a centropista Parirum in vantaggio Plachi che viene su bene Plachi LB che aggredisce Parirum Plachi LB VP che agguanta Parirum e nel finale passa di una scarsa sulla rivale al terzo ancora un buon Piragna due minuti e poco più per VP dell'annunziata uno quindici e tre per Plachi LB con We All e Zenia LB della Leonardo Antonio Chiaro al training VP perfetto nell'interpretazione all'attesa del suo Plachi che aspetta il momento più opportuno per agire Parirum corre ancora una volta molto bene questa volta da protagonista terzo un valido Piragna numeri dicono nove, sei, otto è tutto per la prima grazie a tutti